buonasera buonasera ho avuto paura iniziare bene con la sirena mio cugino a fianco sbaglia sempre non sa mettere il codice allora sono all'aria ho detto oddio devo darmi no invece era da qui però non male dai sembra la sirena ogni tanto di quando arrivano no però funziona mi sono svegliato è la stessa sveglia con cui mi sveglio la mattina quindi ormai ok pensavo fosse scattata ad ogni modo buonasera a tutti buonasera a tutti buonasera a carmen buonasera a domenico buonasera gualtiero gualtierone e benvenuti in quella che sarà la prima serata di tre dedicate al mondo di evangelion che cosa proveremo a fare con l'aiuto di carmen di domenico ma soprattutto di gualtiero proveremo a far capire a un quartiere mi perdono quartiere carmen mi perdoneranno del tono ma qui siamo sul mio canale proviamo a far capire agli stronzi che ci seguono perché i miei i miei follower li chiamo stronzi qual è stata l'importanza storica di evangelion da dove nasce evangelion perché a distanza di così tanti anni stiamo ancora parlando di evangelion che cos'è lo studio gainax chi è idea chi hanno proveremo a contestualizzare la nascita la crescita lo sviluppo di questo anime cercando di capire qual è stata l'importanza per i giapponesi e poi anche un po qual è stata l'importanza in giro per il mondo di questo prodotto e proveremo nel corso delle altre serate anche a cercare un po di disaminare quali sono stati quali sono quali erano quali saranno se così possiamo dire le tematiche di questo prodotto fino ad arrivare a capire perché evangelion fondamentalmente è un anime che ci piace così tanto in italia e quindi direi proprio di dare fuoco alle polveri e capire con voi perché questo questo cartone animato questo anime nasce proprio a metà degli anni 90 in che contesto storico politico economico sociale contesto ecco di di un mondo fatto di animazione nasce evangelion perché proprio in quegli anni raccontateci voi perché lo sapete io evangelion l'ho sempre vissuto più da spettatore quindi in queste serate dove fondamentalmente cercherò di moderarvi cercherò un po di tenere le file del discorso senza fare in modo che vada a disperdersi da qualche altra cosa io cercherò di capire da spettatore insieme a voi tutte queste cose ma voi siete gli esperti quindi raccontatemi un po questa storia e chi vuole cominciare questo e questa è tosta e comincio io evangelion comincia in giappone essenzialmente dell'autunno del 1995 no la messa in onda e diventa anche se era messo in onda su un emittente neanche nazionale locale diventa subito un fenomeno un fenomeno che si alimenta si alimenta come una vaga una valanga parlo del giappone e diventa finisce la messa in onda nel 96 erano 26 episodi uno alla settimana essenzialmente mezz'anno poi ha avuto tanto successo ci sono state polemiche verranno realizzato un nuovo finale per la serie però che debutta al cinema nel 97 e in quel biennio 96 97 diventa veramente una cosa grossa però era nata come una cosa piccola era nata come una cosa veramente piccola fatta da un piccolo studio di animazione per una piccola emittente e quindi era quasi un progetto giocattolo coccolato l'autore principale aveva delle velletta anno idea chi no l'autore principale anno idea chi è gainax anno idea chi è membro storico della gainax e gainax prima che la gaina da prima ancora che la gainax si chiamasse gainax però lui aveva delle ambizioni le ha dichiarate per il pubblico giapponese nel mondo dell'animazione giapponese a chiare lettere molte volte aveva dei suoi motivi e ovviamente poi siccome questa piccola cosa è diventata una cosa molto grande tutti hanno voluto sapere quindi in giapponese è stata scritta ai tempi una pletora di articoli interviste chi più ne ha più libri chi ne ha più ne mucca la cosa secondo me molto molto interessante e intanto capire un po come a il mondo dell'animazione a quel tempo e soprattutto rendersi conto che come l'autore anno idea chi è una passiera ed è un appassionato di animazione manga anime qualsiasi cosa lui era ben conscio di quello che fosse l'attuale momento dell'animazione nel 95 in giappone e fa evangelion totalmente lucido nei confronti di quello che era il contesto essenzialmente anno ideachi e la gainax pensavano che in quel momento il mercato dell'animazione giapponese fosse molto stagnante ok questo è il loro pensiero lo scrivono lo scrivono loro nell'inserto del primo laser disco di evangelion il laser disco di evangelion contenevano molti redazionali e poi un inserto più chiacchierone che si chiamava eva tomono kai il clave degli amici di evangelion e c'era una rubrica che si chiamava gaina san il signor gaina e c'era una rubrica che si c'erano tutte queste cose e nessun numero uno sul primo inserto loro proprio dicono accade a volte che un mercato artistico creativo entri in un momento di stagnazione perché tutte le cose sono riproposizione di successi consolidati del passato e allora c'è bisogno che arrivi una nuova cosa grossa veramente nuova the next big thing direbbe qualcuno e loro avevano questa bellezza al loro modo qualcosa fosse al loro tempo la loro visione è un altro discorso però questa bellezza c'era dichiarata e il punto è ecco no tu hai detto che nella visione di idea che hanno e dello studio gainax si pensava che nel giappone della metà degli anni 90 ci fosse un periodo di stagnazione però com'era effettivamente il panorama degli studi di animazione di quegli anni ovvero chi c'era quali erano i competitor quali erano o quali erano stati in quegli anni i cartoni animati gli studi di animazione che erano al top e che avevano diciamo così esaltato i ragazzini i bambini e perché proprio poi nel 1995 gainax e de a kianno facendo evangelion segnano diciamo così un'epoca presentando un un prodotto di rottura e capiamole un attimo però le motivazioni perché cosa c'era in quegli anni perché poi evangelion è diventato evangelion io poi chiederei il contributo anche di caverna sì sì chiaramente io faccio la domanda però poi siete liberi a gamba tesa non vi preoccupate nessuno di noi era in giappone in quegli anni no certo quindi ovviamente nel nel dare una propria opinione su quello che tu dici adesso sono angelo sono buta c'è sempre una componente di quello che ho studiato quello che ho saputo quello che ho sentito quello che ho recuperato però sta di fatto che nessuno di noi era un ragazzino giapponese in giappone lo andaci noi sappiamo e e anno ideaki sapeva bene che l'animazione giapponese per come noi la conosciamo ha avuto un grande punto di discontinuità con l'esplosione di quello che si chiama l'anime boom negli anni 70 quando ci fu prima l'anime boom il mondo giapponese commerciale si rese conto che oltre ai bambini in giappone e poi con l'anime boom il mondo giapponese commerciale si rese conto che oltre ai bambini che guardavano i cartoni animati per bambini e poi andavano a comprare giocattoli c'era tutto un altro mondo di bambini passati che erano già cresciuti diventati anche tipicamente giovani uomini nel senso universitari che avevano ancora voglia di guardare l'animazione ma chiaramente volevano un animazione con un altro taglio un altro contenuto e questo vaso di pandora è stato aperto da Yamato nel senso su questo non ci piove in particolare si parla di un famoso speciale sulla rivista out una rivista giapponese di Yamato poi viene fondata animage sulla copertina del numero uno c'era Yamato quindi in quel momento il mondo dell'animazione in giappone ha fatto tilt e cambiato da lì e siamo comunque negli anni 70 no da lì fino ai 90 non c'è stato un altro tilt c'è stata un evoluzione c'è stato un assestamento c'è stato un consolidamento di diverse fasce segmenti di mercato si direbbe poi ovviamente negli 80 c'è stato il boom dei video registratori che ha creato tutto un altro settore dando maggiore libertà creativa ai gli autori che producevano animazione direttamente per il mercato dell'ombidio quelli che si chiamano o via si chiamavano o via e quindi avevano i loro proventi dalla vendita del supporto fisico non dei giocattoli e quindi avevano una libertà artistica diversa però è stata una cosa in continuità cioè quello che è cominciato con Yamato e Gundam poi si è evoluto lentamente fino ad arrivare alla metà degli anni 90 dove forse come dicevano i Gainax era un po stagnante perché ormai c'era stato il boom di Sailor Moon in televisione c'era stato un certo boom di quell'animazione giovanile anche un po' graffiante che forse era nata nel mercato degli OVA ma poi era anche un po' entrata nel mercato dell'animazione televisiva pensavo a Slayers e tutto quel genere di animazione e secondo Gainax lo stato dell'animazione giapponese artisticamente parlando era molto stagnante. Se posso inserirmi all'interno di questa risposta effettivamente negli anni 90 se noi andiamo a stilare la lista di tutti quelli che sono i mecha parlo specificamente di questo perché siamo nel mondo dell'animazione robotica con Evangelion anche se naturalmente c'è il misticismo la psicologia ed è tutto un bel mix però sostanzialmente si parla di quello no se dai un'occhiata anche tutti gli altri studi come la Sunrise e poi quelli forti venuti dal mondo di Gundam sostanzialmente davvero cementavano sempre l'idea che si dovesse fare il cartone animato per l'adolescenza ma che doveva essere supportato sempre dal giocattolo comunque con delle forme molto plasticose mi viene in mente anche un Victory Gundam ma anche un Nadeshiko che seppure interessante non va tanto oltre ma poi negli anni 90 c'è Mobile Fighter Gundam il G Gundam il torneo di arti marziali con i Gundam quindi siamo proprio l'apoteosi del nonsense totale lì vabbè mossa incredibile no del prendersi in giro prendersi in giro da soli ma oltre questo poi diciamo come prodotto fuori dal coro c'è Pat Labor e oserei dire fuori dalla stagnazione almeno Giant Robot il giorno in cui la terra restò ancora in piedi dove si ridefinisce anche un po' l'estetica degli eroi robotici è Giant Robot è uno di quelli che ha portato l'immaginario shonenai in una maniera più forte all'interno dell'animazione robotica c'è anche da dire che quella era l'epoca del Media Mix nel senso che per i giapponesi Media Mix è la produzione di un'opera che sfrutti vari media in Giappone nella seconda metà degli anni 90 si era avuto un grande boom del settore dei videogiochi perché anche le console domestiche erano arrivate ai 16 bit cosa che permetteva un livello grafico molto evoluto rispetto alla precedente generazione degli 8 bit e il settore arcade era esale ai giochi in grande espansione e quindi c'era molto Media Mix per esempio c'è una serie piuttosto famosa che forse anche voi conoscete non dirò il titolo italiano che si chiama Magic Night Ray Earth grazie per non averlo detto in italiano grazie si nasce come un organista anzi nel 95 erano già i 32 bit perché erano usciti di playstation e stato ma credo che se l'avessi detto in italiano forse non so se quante persone va beh però mi sarebbe mancata l'aria allora a lui di manca vabbè mi prendo io questo onere respira vai una porta socchiusa ai confini del sole ok e questo questo per esempio era un titolo da cui venne progettato anche per essere un gioco di ruolo per Sega Satan quello che noi chiamiamo Satone e Sega Satan e si vede era un manga del clamp un anime un anime che lanciò molto alla ribalta le doppiatrici con una sigla molto accattivante molto pop diciamo che il mondo dell'animazione giovanile non infantile giovanile negli anni 90 si stava molto come posso dire mischiando mixando con altri settori più all'avanguardia per esempio un uomo come Miyazaki Hayau che anche lui sempre è stato molto attento all'evoluzione del mondo dell'intrattenimento giapponese lui diceva chiaramente gli anni 70 sono stati gli anni del manga gli anni 80 sono stati gli anni dell'anima gli anni 90 sono gli anni del videogioco e penso che è normale che adesso per esempio potremmo dire che ci sono stati gli anni dei social network degli smartphones penso che sia anche normale adesso per comodità andiamo a decadi però è anche normale che le tecnologie si susseguano nel primato del gradimento del pubblico soprattutto del pubblico più giovanile chiaramente vediamo che adesso in Giappone i manga non sono fruiti come erano fruiti negli anni 70 l'impatto popolare è diverso a parte One Piece a parte One Piece quello funziona sempre bene beh ma gli anni 80 comunque non so se ci avete fatto caso penso proprio di sì la maggior parte degli anime erano ripresi dai libri classici che erano appunto piccole donne questi anime un po' depressivi perché comunque per la maggior parte sono depressivi quindi diciamo che c'è uno spaccato molto reale sugli anime che andavano a realizzare in quel periodo che proprio comunque erano argomenti come appunto la piccola principessa argomenti come era la schiavitù argomenti molto profondi parecchio particolari poi con gli anni 90 vabbè so cambiato un po' di cose direi che sono cambiato un po' di cose ecco andiamo più addentro nel sono cambiate un po' di cose perché per arrivare chiaramente a parlare di Evangelion e quindi di quello che è stato l'impatto in Giappone anche se è arrivato un po' più tardi perché Gualtiero ci ha già un attimo anticipato che fondamentalmente era un giocattolino piccolo che doveva essere una produzione piccola fatta quasi per far contenti quelli della Gainax però ecco dobbiamo un attimo capire che cos'è questo studio di animazione da dove nasce che cosa aveva fatto prima di Evangelion che cosa ne pensavano le persone di questi studi di animazione che evidentemente a metà degli anni 90 cominciavano un attimo più a diversificarsi prima c'era lo strapotere di Toy Animation la maggior parte di tutti i cartoni animati dell'epoca di successo li faceva Toy Animation ecco come come arriva questa 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 Gainax da dove esce fuori che cosa aveva fatto prima di fare Evangelion e come le persone reagivano ai cartoni animati di questa casa di 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 produzione in realtà la Gainax non voglio dire che fosse semi sconosciuta ma quasi ma se non mi sbaglio si chiamava Daikon Film prima? no la Daikon Film è un'altra cosa che nasce prima di Gainax allora essenzialmente la Gainax è un gruppo di appassionati che si era riunito intorno alle convention di science fiction giapponese non di animazione convention di science fiction ora la convention di science fiction nazionale giapponese è itinerante esiste tuttora e a seconda della città dove fa tappa cambia nome prende un nomignolo diverso quando va a Osaka siccome il primo kanji di Osaka è quello di grande si legge anche Dai la chiamano Daikon Dai Convention allora capitò che un gruppo di giovani universitari che non avevano alcuna esperienza professionale col mondo dell'animazione e gli appassionati più giovani di noi cioè stiamo parlando di gente che boh poteva avere 21 22 anni si ritrova perché quell'anno 1981 la convention di science fiction nazionale giapponese avrebbe fatto tappa osa che allora erano tutti appassionati matti di tutte le cose che adesso vengono dette nerd avete presente quindi ai tempi letteratura di fantascienza science fiction cinema mondiale quindi e giapponese e americano hollywoodiano di fantascienza tutte queste cose si ritrovano tipo nella raffetteria nelle aule dell'università e dicono ma perché non facciamo non autoproduciamo un breve corto di animazione come corto di apertura della convention lo fanno e lo fanno in maniera veramente armatoriale nel senso che detto schiettamente è tutto testificato questi non sapevano che tipo di acetato si doveva usare sbagliano gli si scolla il colore siamo a questo livello devono rifare tutto da qua e c'era il daikon free opening anime il regista era il giovane Yamaga Hiroyuki il character designer era il giovane Takaya Kami e tra gli animatori c'era il giovane Anno Hideaki ok questo è il nucleo che poi diventerà la Gainax dopo perché poi ovviamente loro erano anche appassionati di come si i tokusatsu i film di effetti speciali allora si avvicinano a un posso dirlo a un figlio di papà tra virgolette una ragazza appassionata come loro ma che aveva qualche soldino in più e con i soldi della famiglia aveva aperto un negozio di cose nerd tra l'altro perdonami se ti interrompo mi ha fatto venire in mente una cosa che ho visto un documentario su Ideaki Anno ovvero delle prove che Ideaki Anno faceva da ragazzino su Ultraman tanto da esatto tanto da da farsi il diciamo così lo pseudo telefilm da solo si riprendeva da solo si faceva le puntate del telefilm da solo dove lui era unico e assoluto protagonista e riguardandole oggi sono anche molto divertenti perché sono fatte bene queste cose sono proprio documentate c'è un libro che è stato scritto da uno dei fondatori della Gainax che si chiama Takeda Yasuhiro che si chiama Notenki Nikki è stato pubblicato in inglese col titolo di The Notenki Memoir io ho avuto anche la fortuna di cenare con quella persona Takeda Yasuhiro e lui dice quando incontrai io Takeda Yasuhiro quando incontrai Anno Hideaki Yamagai Hiroyuki fu una cosa pazzesca perché eravamo in un caffè e io dissi a Anno mi hanno detto che tu sai animare e hanno prese la risma di fazzoletti e ha disegnato sulla risma l'animazione di una power suit che erano gli esoscheletri di fanteria dello spazio e lui disse che sapete facendo scorrere la risma di foglietti si vede l'animazione sì sì in quella racconta Takeda Yasuhiro che è caduto Yamaga dalla sede gli hanno chiesto che è successo e lui ha risposto scusate ero così concettato che mi avevo dimenticato di respirare erano soggetti un po' particolari chiaramente però sta di fatto che loro hanno fatto prima il Dragon 4 open in anime poi il Dragon 3 open in anime poi il Dragon 4 open in anime e questo era nell'83 quindi due anni dopo quando la fiera nazionale della science fiction giapponese fece nuovamente tappa Osaka per la quarta volta quindi daipon 4 e questa volta l'avevano fatto meglio quindi questa cosa ebbe un impatto era un'autoproduzione era un corto ma era dal punto di vista dell'animazione veramente florido rigoglioso e quindi ebbe un impatto sul settore loro avevano già incominciato a fare dei lavoretti a cortimo hanno idea che aveva lavorato un po' macros e quindi assurarono l'attenzione di qualche investitore per esempio la Bandai e quindi la Gainax venne incorporata fondata per poter produrre il primo lungometraggio Gainax di queste persone scelsero il nome Gainax fondarono la Gainax nella se ben ricordo vigilia di Natale del 1985 potrei dire una sciocrezza vado a memoria per produrre il film Oritsu Chukun Onnamis no Tsubasa ovvero la regia aeronautica le ali di Onnamis che fu il primo lungometraggio Gainax e poi dopo di quello che succede? e poi succede che quel film è lo stato dell'arte dell'animazione degli anni 80 ci sono tantissime persone che lavorano a quel film roba che la colonna sonora era incisa da Ryuichi Sakamoto colui che nello stesso anno prese l'Oscar alla migliore colonna sonora per l'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci c'era Tatsuya Higawa i teaki hanno chiaramente Mahiro Maeda c'era Satamoto Roboteroyuki c'erano tutti solo che il film floppa tremendamente è un flop al bottichino e gli investitori si incazzano di brutto era anche un film tremendamente intellettuale perché era un film del regista Yamaga Hiroyuki e Yamaga Hiroyuki secondo me in quel gruppo era l'intellettuale cioè non era lui l'otaku erano tutti otaku marci Yamaga Hiroyuki era ed è un intellettuale e secondo me quel film aveva un contenuto parliamo dei livelli di Oshimamoru no? però in una maniera ancora più meno sorniona non so come dire Oshimamoru è un intellettuale ma è anche una persona che conosce bene il cinema ha fatto cose molto nicchia meno di nicchia ha fatto cose eccezionali altre magari meno eccezionali è un'opera prima per Yamaga Hiroyuki secondo me quel film l'hanno capito in pochi e ancora oggi lo si guarda male però per me è incredibile cioè è veramente incredibile è per contenuto è per ricchezza per tutto sì ma figurati parli con una persona che ha la VHS di One Amese a casa quindi figurati straordinario un film bellissimo però questa cosa poi si riflessa negativamente sul loro lavoro cioè quando arrivavano gli investitori dicevano ma chi è Sadamoto questo? no Sadamoto ha fatto il flop ma chi è Anno? no questi hanno fatto il flop non possono lavorare con noi infatti poi la Gainax diventò un'azienda molto di nicchia cioè si ritagliò una sua nicchietta nel mercato degli OVA fecero successo con Punta al Top e Gunbuster poi fecero successo con dei videogiochi molto di nicchia come la serie di Princess Maker che venne inventata programmata sceneggiata e disegnata tutta dalla stessa persona Takaya Kami e poi facevano da service nel senso facevano il lavoro per altri studi nel 91 nel 91 non fecero un film Fushiki no Umi no Nadia nel 90 ma quella è una serie di film nel 90 ci fu anche un film che loro in realtà non fecero nel 90 ci fu quella serie però quella serie loro la fecero sotto commissione nel senso quella fu tra virgolette un'asta che loro vinsero con la NHK l'azienda la televisione di stato giapponese che aveva un progetto nel cassetto lasciato nel cassetto da Miyataki Hayau che aveva lasciato questo contratto ma aveva lasciato in eredità questo progetto loro decisero di voler sviluppare questo progetto e fecero lo misero all'asta tra virgolette chiesero agli studi di animazione proponetevi per sviluppare questo progetto visse la Gainax ma la Gainax andò in rosso cioè ebbe successo ebbe successo a livello nazionale perché Nadia fu un grande successo nazionale in toto però la Gainax non ne ebbe alcun provento perché non avevano i diritti non potevano fare nulla di Nadia se non i videogiochi per i pc quindi fecero un videogioco per pc per i x 98.000 essenzialmente pochissimo non avevano i diritti di merchandise non potevano fare un video era tutto di altre proprietà loro lavorarono essenzialmente in perdita però faccio io una domanda da totale ignorante lo sapete io oggi apprendo da voi un sacco di cose perché prima di arrivare a Evangelion per quanto sia di nuovo lo ribadisco perché lo avete raccontato voi un prodotto di nicchia come si arriva poi diciamo a volerci riprovare dopo che ecco i primi cartoni animati non sono andati bene nel fare Nadia ci si è andati in rosso da dove arriva questa spinta del voler per forza di cose provare di nuovo a fare una serie animata per il circuito nazionale e quindi qua possiamo anche un attimo riuscire a capire chi è a questo punto il mastermind dietro questo Evangelion quindi da dove esce fuori idea chi hanno chi è qual era la sua filosofia che cosa puntava a fare con con Evangelion allora voi avete visto Nadia avete presente Nadia certo certo Nadia è stata una serie molto di successo in Giappone in Giappone Nadia era una serie dichiaratamente per bambini se voi aveste l'ultimo laser disc di Nadia in coda come special bonus ci sono i disegni dei bambini degli elementari che il pubblico mandava alla NHK era una serie onestamente per bambini però fatta dalla Gainax quindi comunque con quel genere di contenuto secondo me è una serie fantastica però se voi leggete le dichiarazioni di Anno ci sono cose che da un lato fanno rizzare i capelli almeno a me dall'altro hanno molto senso per esempio Anno Hideaki parlando di Nadia dice esplicitamente con queste parole io voglio fare Nadia per riportare il concetto di morte nell'animazione per bambini cioè lui sosteneva che mentre nell'animazione degli anni 70 per bambini ci fosse la morte Tomino voglio dire le bombe umane di Zambot 3 la morte Tomino ammazza tutti è completamente curata dall'animazione per bambini degli anni 90 ovvio della fine degli anni 80 Nadia del 90 quindi lui dice io faccio disse io avevo fatto Nadia per la volontà di riportare questo tipo di contenuto al tempo stesso mortifero e quindi vitalistico nei prodotti animati per bambini per questo io dico che Anno Hideaki essendo un appassionato dell'animazione ha sempre avuto molto chiara quale fosse la situazione del mercato dell'animazione in Giappone e ha sempre avuto molto limpida l'idea dell'impatto che voleva dare dopo aver fatto Nadia ed aver avuto grande successo con Nadia Nadia ha vinto l'animage Grand Prix è stato il personaggio dell'animazione più amato e l'animage Grand Prix prima di Nadia dall'84 veniva vinto sempre da Nausicaa dall'84 che asce Nausicaa fino al 90 l'animage Grand Prix primo posto personaggio femminile Nausicaa solo Nadia riuscì a scalzare per un anno ok quindi Anno quando fa Evangelion lo fa perché dichiara che lui si era depresso dal successo di Nadia ok si era depresso perché aveva fatto un cartone animato per bambini e lui non era un bambino quindi anche avendo avuto successo anche avendo avuto questo secondo me l'odevolissimo intento perché secondo me io mi ricordo di aver visto Nadia quando avevo 14 anni ero già un ragazzino rimasi scioccato un paio di volte e fu un bene ovviamente Anno invece ne fu depresso Anno è più anziano essenzialmente ne fu depresso per una questione di orgoglio quindi lui dice io ho voluto fare Evangelion per una questione di orgoglio di quelli come me che guardano ancora i caratteri animati anche se non sono più bambini Proprio detto proprio papale papale è una questione di orgoglio per diciamo la mia non dico generazione ma la mia micro etnografia di persone ormai diventate 25 anni quasi 30 anni che ancora guardano i caratteri animati e quindi ho voluto fare Evangelion per questo Però ti stoppa un attimo perché secondo me stiamo andando un attimo proprio più in là adesso perché prima poi di capire ancora meglio quello che ci stai raccontando vogliamo provare a tracciare un attimo un piccolo profilo di idea che hanno perché se magari riusciamo a capire chi era che ha fatto e e arrivare poi al momento esatto in cui dichiara ok voglio fare Evangelion perché mi devo riprendere dalla depressione dovuta al successo di Nadia forse poi riusciamo meglio a contestualizzare quello che è stato Evangelion e per la Gainax e dal punto di vista storico sociale e culturale quindi vogliamo provare un attimo a capire chi è questo idea che hanno che faceva la sua storia personale con chi ha lavorato così proprio da avere una overview a 360 gradi di tutto perché ora abbiamo capito più o meno come era il panorama dell'animazione di quegli anni abbiamo capito da dove poteva uscire fuori un pochino Evangelion abbiamo capito quale cosa volevano ecco magari anche un po' i nerd di Gugliani però cerchiamo di capire anche di nuovo chi è il mastermind dietro a tutto quale sono stati i suoi trascorsi perché proprio lui con Evangelion e non magari un altro sbaglio o già si conoscevano con Miyazaki sì allora Anno Hideaki ha scritto in una dedica che fece a Miyazaki Hayao nel box di laser disc che uscì nel 1997 in Giappone si chiamava Gibri Aipai Collection lui fa tutto un lungo articolo una dedica a Miyazaki Hayao come altri autori e lui tra le altre cose dice io sono l'unico autori di anime giapponesi che si freggia di autodichiararsi di scepolo di Miyazaki Hayao e Itano Ichiro che era l'animatore dell'Itano Circus non so se avete presente quando vengono sparati tutti quel groviglio di missili che la scie si vedono soprattutto in macro ma si è anche in anime quindi lui era un animatore Anno Hideaki nasce come animatore a livello professionale a livello personale ci sono dei libri in Giappone che vengono pubblicati intorno al 96 inizio 97 si chiamano Evangelion Schizo Evangelion Parano e il secondo in particolare induge molto sulla biografia di Anno Hideaki quindi leggendo quello si può sapere tutto persino chi è stato a fargli conoscere il mondo delle emozioni una ragazza di nome il fatto che lui fosse l'alunno modello della sua cittadina finché non ha decise di non studiare più e abbandonò gli studi essenzialmente Anno Hideaki è stato ed è proprio tanto tanto un otaku della sua generazione è una cosa molto diversa da quello che oggi si intende otaku perché stiamo parlando di un otaku che era un ragazzino quando ci fu l'esposizione universale di Osaka 70 quindi che andò nel padiglione americano per vedere le moon rocks riportate dalla luna dove c'era appena stata la missione americana quindi questa grande forma di ottimismo nei confronti dell'avvenire del futuro della tecnologia ed è stato un avido 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 consumatore di finzione di finzione di fantascienza fantasy di tutte le nazionalità letteraria cinematografica televisiva tant'è che Anno Hideaki dice a chiare lettere che lo cito per le persone come lui è assolutamente impossibile creare qualcosa di originale e anche quando credono di aver creato qualcosa di originale poi dopo un po' di tempo ci ripensano e si rendono conto che pure quello l'avevano già visto da qualche altra parte e si deprimono la famosa teoria del remix sì 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 per vedere lui è proprio quasi un consumatore compulsivo di questo quindi non stupisce che si filmassela solo per fare Ultraman che fa quale mossette perché è tra virgolette proprio la materia di cui lui è fatto professionalmente lui è un animatore aveva fatto qualcosa come vi avevo detto per macros poi il film penso poi fece si presentò rispondendo una chiamata pubblica pubblicata su Animage perché stavano producendo Nausicaa il film di Miyazaki Hayao mancavano animatori era uno studio piccolo piccolo che si chiamava Topcraft pubblicano su Animage la Tokumashoten era il finanziatore del film l'annuncio cerchiamo animatori Hannohideaki prende il treno da Osaka va a Tokyo e va a picchiare alla Tok Tok e va a picchiare alla porta dello studio portando il Daikon 4 opening anime Miyazaki lo vede e lo assume seduto a stante dice vai ad animare Hannohideaki dice ma veramente io non ho il pigiama cioè sono venuto così non so dove stare e Miyazaki dice ah come si è preparato è stato proprio un incontro quindi poi lui torna a Osaka torna a Tokyo il giorno dopo dormirà sotto lo studio e disegnerà una famosa scena di Nausicaa in cui si vede l'Evangelion essenzialmente la scena del soldato di Tano esatto la fine del film il dio guerriero sì Evangelion praticamente sì poi farà ma anche quando tira fuori le ali nel manga no? uguale uguale identico poi farà qualcosa con Takahata perché gli lo raccomanda Miyazaki per la tomba delle lucce una scena che era tutta disegnata bene solo che poi Takahata era tutta oscurata non si vede niente è notturna e poi farai il regista per appunto al Top Gunbuster fanno ridere chi cosa che gli darà un po' di notorietà in una piccola nicchia e poi farai il regista per Nadia cosa che gli darà una certa notorietà in una nicchia non più nicchia per lo meno nel settore degli appassionati di animazione Nadia era piaciuto a tutti in Giappone dato sulla TV di Stato però gli appassionati di animazione sono quelli che si informano anche sul nome delle regista tipicamente no? è come dire che se noi pensiamo ai grandi successi dei film quando poi una cosa di grande successo ma io penso che solo una minoranza degli appassionati di Star Wars sanno qual è il regista del primo quale del secondo e quale del terzo perché già sapere il nome del regista è una cosa da appassionare non so Empire Strikes Back qual è il regista? Irving Kirchner? non mi ricordo è lui eh? hai capito ma lo so giusto perché mi ero interessato avrei pure il dubbio del terzo non me lo ricordo del primo mi sembra George Lucas sì il primo era il George Lucas esatto ma cioè non sarei per la serie perché anche di una cosa che ha avuto tanto successo sui milioni di milioni di milioni di persone che conoscono il titolo qualche centinaio di migliaio non sai chi è il regista o è il più appassionato è normale detto questo questo era Annochideak e domanda secca a questo punto così qui adesso abbiamo fatto un piccolo preambolo per arrivare a Evangelion e quindi la domanda secca è da dove esce fuori Evangelion? dal senso di frustrazione di Anno eh però dal punto di vista poi del design dell'idea della storia dei personaggi vabbè Shiji è lui chiaramente questo lo sappiamo tutti sono lui da dove esce fuori? Idea che hanno mai raccontato qual è stata la genesi dell'opera cosa pensava quando si è messo a scrivere a delineare i personaggi gli Evangelion quello che sarebbe dovuto essere poi il confronto tra padre e figlio mi interessa sapere la storia dietro la storia quindi da dove esce fuori tutta la sostanza di Evangelion? Qual è la storia dietro la storia di Evangelion? Per quanto riguarda la produzione Annochideak aveva un credito personale di di riconoscenza con un produttore di TV Tokyo TV Tokyo come abbiamo detto era una piccola emittente che si prendeva in metà del territorio di Tokyo Megalopolis neanche in tutta lui non so perché aveva questo credito di riconoscenza quindi lui gli dice tu fai un progetto io te lo approvo la Gainax era come abbiamo detto un gruppo di appassionati che passava il tempo con la cola gola a cercare di capire che progetto facciamo che progetto facciamo magari ognuno metteva sul tavolo qualcosa hanno idea chi mette sul tavolo l'idea di fare Evangelion dal punto di vista del contenuto in Evangelion è semplicemente tutto quello che piace hanno idea ovvero essenzialmente gli Evangelion sono si parla di animazione robotica ma gli Evangelion sono ultraman sono praticamente un torsato la regia è molto simile a da un lato ai film con i grandi mostri dai kaiju ega degli anni 60 giapponesi godira e tutti quelli no? e dall'altro hai tokusatsu televisivi quindi ultramene e quant'altro il modo antropomorfo di Evangelion è il modo di un corpo umano non è il modo di un robot di ferro è la macchina umanoide multifunzione Evangelion no? è fatta di carne quindi ovviamente sembra più un'armatura più che un robottone e poi vorrei aggiungere una cosa sembrava dico sembrava vorrei aggiungere una cosa sembra una stronzata ma non lo è è proprio perché sono tokusatsu hanno le scarpe da ginnastica gli Evangelion assolutamente ma vero nel senso che se adesso che sono un po' più vecchio se penso a Evangelion quello che mi viene in mente a me sono tipo mi sembra di vedere i muscoli non so come dire sapete gli studi dei nascimentali sulle articolazioni umane oppure nella biblioteca dell'archiginnasio di Bologna ci sono ancora delle sculture linee che si chiamano gli spellati perché quando era vietato studiare il corpo umano sulle dissezioni si studiava sugli spellati che sono praticamente degli scuoiati e si vedono i fasci muscolari solo che sono di legno Evangelion sembra questa cosa anche quando corrono gli Evangelion quando forzano si vede che sono in qualche modo umani cioè non sono Mazinga che ha una sezione tonda oppure quadrata del gambe degli arti che delle articolazioni non sono Gandalf sono essenzialmente Ultraman e poi ovviamente c'è tutta una lunga tradizione di letteratura di fantascienza che era quella che piaceva da Nohideaki che tra l'altro lui aveva già messo dentro Nadia ovvero essenzialmente il ciclo di giganti di James P. Hogan James Paul Hogan che poi anche quello era un po' una reinterpretazione dell'idea che Clark e Kubrick avevano messo dentro The Sentinel ovvero 2001 Space Odyssey e Hogan l'aveva rielaborata a modo suo però tutte queste cose che appartenevano molto agli otaku di quella generazione la generazione di otaku che Okada Toshio chiama gli otaku forti e una generazione di otaku che ha iniziato il suo interesse con la letteratura di tantissime quindi romanzi science fiction tanti 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 James P. Hogan venne ospitato alle congenitori con giapponesi più volte il suo interprete era quel Torren Smith che oltre ad avere dato il nome a un personaggio di Gambaste fu anche uno dei traduttori della Guinness ci sono tutti questi adesso non c'è più tra l'altro scomparso prematuramente ci sono molti legami sì c'era anche sto leggendo c'era anche Ideon però quella cosa di Ideon Ideon era stato un feticcio di quella generazione di otaku però e poi si può anche dire che Ideon effettivamente fosse più un inserimento da parte di Sadamoto perché si stava cercando il titolo di Evangelion sì assolutamente però non veniva esatto voleva fare Alshon esatto bravissimo ma il produttore non piaceva poi Sadamoto ci aveva detto ma perché non lo fai tipo Ideon e gli è venuta poi fuori la parola Evangelion sì ma sai che ovviamente chi conosce Gundam quello originale io non sono un grande esperto di Gundam però Tomino aveva già introdotto in Gundam un elemento che potremmo dire quasi evoluzionista spiritualista in New Type sì chiaro poi aveva ulteriormente preluduto l'acceleratore su questo discorso con Ideon lo spiritualismo è molto il perfezionamento avviene anche attraverso l'Ideon è molto 2001 nel senso di Space Odyssey quindi penso che queste cose come dicevamo per un gran signore dell'Otakuzoku quale anno fossero poi in lui c'è un'intervista famosa di Sadamoto Yoshiyuki in cui si trova nell'edizione deluxe del libro Der Mond in cui lui dice la famosa frase che è stata ribattuta da tutti i blog occidentali perché qualcuno l'ha tradotta se si prende Davidman più Ideon e si divide in due si ottiene un grande però questa cosa ha un valore io ci ho parlato con Sadamoto l'ho conosciuto ci ho accenato questa cosa ha un valore e lo dice una persona che ha avuto grandissimo ruolo nella creazione di Van Gaengen Sadamoto Yoshiyuki dato tantissimi input però a fianco di questa non è che questo esaurisce la questione perché a fianco di questa dichiarazione ci sono un altro po' libri interi in cui hanno Hideaki dice quando io ho visto il finale di Nausicaa il manga l'unica cosa che voleva era rifare quel finale in animazione lo dicevo chiaramente c'è questa chi ha letto il manga di Nausicaa spoiler spoiler signori copritemi le orecchie attenzione chat spoiler chi ha visto il manga sa essenzialmente che Nausicaa finisce con un progetto per il perfezionamento abortito e un apocalisse c'è Nausicaa che scopre qual era l'intento essenzialmente del popolo dei dorok che erano essenzialmente quelli i mistici indiani e dice no non mi va bene e dice al soldato titano ovvero l'Evangelion distrugge tutto rada al suolo tutto e il soldato titano lo fa rada al suolo tutto mandando all'aria tutto il progetto e c'è questa scelta di apocalisse con speranza di rinascita ma ci sono persino delle battute uguali tra il finale di Nausica e l'Evangelion cioè tutto il momento in cui nei finali di Nausicaa Selm va a incontrare Nausicaa all'interno del siero Bava di Om è uguale al finale di Magokoro o Kimini quando ci sono Shinji e Rei quasi compenetrati nel mare di LCL ma è proprio uguale non è colpa mia è uguale cioè se ne avete letti tutte e due è uguale però ovviamente siccome quella nulla voglio togliere dalla dichiarazione di Sadamoto siccome quella dichiarazione ha avuto molta ridondanza nel settore occidentale si pensa che quella dichiarazione esaurisca quindi Evangelion e Devilman li vedo anch'io le citazioni di Devilman in manga in Evangelion ma non è né quello che lo esaurisce né la parte preponderante secondo me telegraficamente quando parliamo di Evangelion perché poi domenica prossima parleremo dei temi quindi parleremo chiaramente di quel finale per cui tanti ragazzi o lo hanno amato o lo hanno odiato o se lo sono rivisti 40 volte come la sottoscritta ma lo parleremo ne parleremo settimana prossima di quelli che sono magari i temi o sono magari i significati però velocemente brevemente vogliamo un attimo ricordare come è stata la produzione di Evangelion che cosa si provolevano di fare con questo anime e soprattutto che problemi hanno avuto per arrivare a quel finale avevano pensato di cominciare con 28 angeli in primo progetto se non sbaglio avevo letto un po' di tempo fa che si pensava di inserire 28 angeli ringraziamo il cielo gli erano mesi solo 17 perché 28 sono un pochettino tanti poi se non sbaglio in quel periodo ci furono anche tutta una serie di incidenti un attentato alla metropolitana che comunque ha fatto rivedere un po' il progetto l'ha fatto diciamo così si è fatto cambiare un pochettino la trama per questioni religiose hanno cercato di come dire di dare più profondità alla trama ai personaggi quindi diciamo che il pilot il progetto pilota iniziale a un certo punto ha deraiato ed è appunto l'anime che conosciamo noi oggi quello che ha avuto successo adesso se ho detto una papalata quartiere dimmelo dimmelo ora che scappo mi volatilizzo se lo sbaglio è così tu stai citando più o meno quello che era nel caibouin so quando si fa un anime si deve presentare un progetto scritto può essere una lettera di intenti oppure se è una serie può essere un documento che contiene un po' il contenuto il design di base la cosa interessante è che questo progetto Evangelion come dicevamo nasceva più o meno come il giocattolo di Anno Kiderki ugualmente dato che era un progetto loro andarono a cercare degli sponsor dato che era un progetto che aveva dei abbiamo detto che non sono proprio dei robot ma aveva dei robot andarono a bussare alla porta della Bandai la Bandai era quella che faceva i gamplà i modellini plastici di Gundam c'era tutto un mercato c'è ancora gli sbattì la porta in faccia gli disse ma chi gli vorrebbe comprare questi modelli quindi Evangelion nasce come un progettino piccolo piccolo che come sponsor aveva la Sega e la Kadokawa Shoten la Kadokawa Shoten era essenzialmente la casa editrice su cui veniva serializzato il manga sulla rivista Shonen Ace Shonen E e anche quella che aveva New Type la rivista della Kadokawa Shoten e poi la Sega che faceva giocattoli per i Gashapon è un grosso mercato in Giappone non so se è una scioletta poi faceva i videogiochi infatti in alcuni episodi si vede nei personaggi di Evangelion che giocano con Satu nel 2015 però la Sega era in realtà da sponsor piccoli perché non sono due grandi investitori dell'animazione New Evangelion era un progetto piccolo e la cosa totalmente strana è che anche se Evangelion era una serie animata perché breve perché in quei tempi fare una serie animata di 26 episodi era considerata breve in genere si parlava 39-52 era una serie animata quindi che andava in tv che aveva la velleità di un OVA aveva una velleità qualitativa e come posso dire di fascino di quelle che normalmente erano produzioni per il mercato dell'on video che si ripagano vendendo le videocassette e laserdisc questa cosa è stata nel mercato dell'animazione giapponese questo l'abbiamo saputo a posteriori ovviamente rivoluzionaria perché si è prodotto un cartone animato seriale televisivo che si ripagava con le vendite delle laserdisc benché fosse andato in tv è strano perché ovviamente in tv te lo puoi registrare da videocassetta mentre io AV ovvero OVA per dire giustamente se li vuoi vedere ti devi comprare la videocassetta di laserdisc la serie televisiva no però la gente comprava lo stesso di laserdisc molto costoso in Giappone quindi in qualche modo questa cosa Evangelion fece nuovamente fare tilt al mercato tilt in senso inglese lo lo inclinò sul nuovo asse ed è esattamente quello che Hanno si proponeva perché con tutto che stava facendo una serie piccolina un giocattolino Hanno dichiarò proprio io voglio fare una cosa che sia il nuovo Yamato il nuovo Gundam qualcosa che abbia un impatto sul mondo dell'animazione però voglio però voglio dei miei di quelli che sono come me ok e però sono curioso che problemi hanno avuto poi quelli della Gainax cioè si sappiamo tutti sono finiti soldi non avevano più soldi per fare gli ultimi episodi però che altri problemi hanno avuto se hanno avuto altri problemi durante la realizzazione di quello che nelle prime puntate si vede è veramente un tripudio di animazione per l'epoca e ancora oggi l'hai visto adesso Evangelion è veramente molto divertente molto godibile però poi si vede che piano piano se ne scende la qualità sempre più i soldi se ne vanno io in generale direi che i soldi non ce li hanno mai avuti ok sono partiti già male nel senso che Evangelion così come appare potrebbe anche dare l'idea di essere una serie da 52 episodi anche se poi non è così cioè nel senso dello sviluppo della trama perché a un certo punto c'è un cambio repentino proprio della storia e tutte le scene fanservice spariscono cominciano a diventare molto più introspettivo e sostanzialmente è tutto dovuto al fatto che la tabella di Marce era disastrosa e la Tatsunoko che lavorava molto bene insieme a Idea Hiano ha già dei tempi di Nadia infatti il trio dei cattivi simpatici di Nadia paga pegno al classico trio drombo delle Time Balkan eccetera eccetera insieme a TV Tokyo non riuscirono a gestire il planning della serie e Idea Hiano era sempre con il fegato ingrossato totalmente insofferente per questa cosa in più direi che sostanzialmente siccome Evangelion era il progetto dove lui ci aveva messo tutto se stesso quando arrivano effettivamente i dati dal pubblico dei primi episodi il pubblico è un po' freddino da questo punto di vista dice sì vabbè ok Evangelion ma che cosa stai raccontando allora Idea Hiano impazzisce e dice ok allora cambiamo completamente rotta e dall'episodio 16 non vorrei errare c'è proprio un cambio drastico della storia c'è un momento intimo di Shinji che comincia a fare un lungo monologo e poi tutta la serie prende proprio un'altra direzione effettivamente erano tutti molto presi c'era un senso di tensione assurda l'assistente alla regia Tsurumaki Kazuya quando si trovò poi a dover lavorare agli ultimi episodi disse vabbè ma tanto ormai cioè la nave sta affondando portiamoli tutti con noi portiamo anche gli spettatori con noi e quindi facciamogli vedere come stiamo affondando perché l'ultimo episodio praticamente è stato realizzato in quattro giorni di tempo di produzione letteralmente uno, due, tre e quattro giorni l'ultimo episodio e quindi loro cioè hanno detto facciamogli vedere pure come noi li facciamo e le bozze proprio le animazioni scalme i key animation questa roba qua e io ero convinta che fosse una scelta di stile vabbè ho una domanda la faccio però quello che dice Domenico è vero nel senso che ci sono stati in Giappone un sacco di voci come potete immaginare intorno a quello che Van Gaglion fu ai tempi della promessa in onda ci sono dei dati certi non sono molti sicuramente la Gainax quando inizia la messa in onda di Van Gaglion aveva realizzato sei episodi sei episodi era il suo buffer potremmo dire no? è una cosa pazzesca perché ovviamente questo vuol dire che tu devi realizzare in quanto tempo ogni nuovo episodio per non andare dietro non so come dire ovviamente quel piccolo margine che avevano se lo sono mangiato subito per quanto riguarda i fondi si dice questo non è testificato da punti ufficiali ma si dice che loro quando erano arrivati intorno all'episodio 14 avevano già finito i soldi per tutta la serie più o meno che non stupisce perché francamente se noi parliamo di animazione televisiva come erano stati realizzati diciamo i primi nove episodi non è normale nel senso fare in quegli anni in cui non c'erano scorciatoie digitali più di tanto per fare animazione fare animazione televisiva con quella qualità non è normale è ovvio che a condurre la barca era lo dico con tutto l'affetto la stima e l'ammirazione possibile un gruppo di scalzacani nel senso che avevano lì avevano ricevuto un finanziamento facciamo le cose più fighe del mondo senza neanche dire ma questi soldi ci devono durare per 26 episodi in più quello che dice giustamente domenico quando tu citavi carmen il documento di progetto si capisce che loro in qualche modo avevano buttato giù il progetto per 26 episodi leggendolo si vede cosa di quel progetto originale è rimasto cosa è incominciato a cambiare quando è incominciato a cambiare ed è verissimo che beh che i contenuti fossero quelli intorno all'episodio come diceva domenico 16 diciamo che l'autore ha incominciato a divergere dal progetto originale virando in maniera molto violenta da un punto di vista estetico verso una efferatezza delle immagini dal punto di vista contenutistico verso un discorso introspettivo psicologico e lasciando andare sempre più la trama per così dire fino a quando si arriva in fondo e il tempo non c'è i soldi non c'è e viene fatto il finale televisivo agli ultimi due episodi in grandi ristrettezze poi ovviamente qualcuno dirà io per esempio che se si parla di arte o di componente artistica l'arte è sempre la virtù che nasce dalla necessità quindi secondo me quello che in quelle situazioni terribili in cui io mai vorrei trovarmi in tutta la vita quello che hanno fatto è stato straordinario e sicuramente fa riflettere molto infatti hanno scritto molto tipo quello che ho imparato dal finale di Evangelion però la realtà dei fatti è che loro erano arrivati a concludere una serie senza avere la possibilità di concludere una serie ho una domanda al volo tenendo conto di quello che avete detto perché Domenico ha detto che all'inizio Evangelion sì i ragazzi se lo guardavano però non ebbe chissà quale grande successo però a me sembra di ricordare forse sbaglio che mano a mano che Evangelion veniva trasmesso in Giappone cominciò ad avere un successo sempre più maggiore tra gli otaku del tempo tanto è vero che poi quando finì con quelle ultime due puntate ci fu una sommossa popolare con tutte le conseguenze che anche un profano come me conosce ovvero con le minacce di morte ai di Akihanno con le persone che cominciarono a dire che cosa avete combinato non è il finale che ci aspettavamo perché abbiamo cominciato a guardare un cartone animato dove c'erano i robottoni che si picchiavano ci aspettavamo quella roba lì invece avete totalmente sbaccato e quindi mi piacerebbe un attimo capire com'erano gli spettatori del tempo e che cosa poi effettivamente pensarono quando si trovarono di fronte questo tipo di produzione animata ma soprattutto questo tipo di storia vorrei aggiungere una cosa prima che il quartiere risponda e faccia la chiosa perfetta secondo me c'è da dire effettivamente che quando Evangelion è stato trasmesso in televisione stiamo parlando di una rete quella di TV Tokyo che aveva una copertura limitatissima cioè si parla che era presente in 13 prefetture in Giappone l'ultimo episodio fece tipo il 10% di share che insomma non era tantissimo e quando nel 97 fu ritrasmessa in tarda serata c'era il 5% di share proprio dimezzato completamente però poi insomma le repliche successive quando poi il fenomeno è esploso chiaramente hanno dimostrato la validità della serie anche nel piccolo schermo questa è ancora una volta una cosa interessante quando Evangelion è stato messo in onda la prima volta il suo orario di messa in onda erano le 18.30 forse non tutti sanno che ma qualcuno saprà che per una scena il direttore di rete saltò perché Gainax consegnava così a ridosso della messa in onda che non c'era possibilità di fare controllo qualità da parte dell'emittente fra l'altro Gualtiero mi inserisco di nuovo mi inserisco di nuovo per rafforzare il tuo discorso perché l'accordo tra idea che hanno e quell'amico della King Records che gli promise di fare la serie fai quello che vuoi però c'erano due limiti c'erano due limiti lavora con noi per cinque anni e non far morire i minorenni non devono morire i minorenni è così qualcuno pensa ai bambini i bambini qualcuno pensa ai bambini la ragione per cui oggi perde solo una gamma e non muore nella ferra infatti nel manga muore stavo dicendo dicano che si spoiler nelle mie live spoilerata spoilerata e quindi alla fine tu ti inserisci la gamba tesa ho visto un attimo alla chat no non è Aska in ospedale anche perché quello sarebbe soprattutto è ovvero la prima parte di Viviendo Evangelion l'episodio che causò il licenziamento del direttore di rete di tv Tokyo perché venne messo in onda alle 18.80 è l'episodio 20 nel cui finale si sente perché nulla si vede dato che i soldi erano già finiti a un sacco di tempo si sente l'amplesso tra Kaji e Insato detto questo hanno idea a chi stava facendo la sua cosa la stava facendo per se stesso e per Rokoi e era anche convinto di starla facendo per quelli come lui per i suoi quindi con tutte le difficoltà dato che lui prima di Evangelion aveva passato questo è stato dichiarato un periodo di depressione da cui si è molto sforzato per venire fuori lui ha proprio detto che tutto Evangelion è stato in lui ispirato dalla ci sono delle battute in Evangelion che sono cose che hanno idea che ha dichiarato parlando di se stesso posso citarle quando Shinji parla con Kaoru nell'episodio 24 parla della vita che faceva prima di arrivare al Neotogiotere dice erano anni sereni in cui io semplicemente non morivo questa è una frase che aveva detto Anno Hideaki e Anno Hideaki ha dichiarato che l'unico imperativo categorico che l'ha portato a fare Evangelion era Nigeziata Meda non devo fuggere questa è dichiarazione sua ora lui avendo trovato questo momentum della forza per mettersi in moto io credo che lui veramente fosse convinto di stare in qualche modo dialogando con se stesso ovviamente e con quelli come lui però le cose poi sono andate come ha detto Angelo ovvero che quelli come lui il pubblico a cui lui pensava di parlare che si scambiavano videocassette registrate dalla televisione in tutto il Giappone voi dovete immaginare che nel 95 internet era di inizi in Giappone come anche in Italia chiaramente non c'era la comunicazione che c'è oggi c'erano ancora le persone che scrivevano le lettere che mandavano le videocassette io ho una videocassette registrata dalla televisione di Evangelion fino all'episodio 19 trascodificato queste persone hanno pensato che avrebbero capito quello che lui era riuscito a fare nel finale evidentemente nella gran parte non lo capirono ovvero ci fu una grande potremmo dire discomunicazione già generazionale tra l'autore e il pubblico questa è una cosa che avviene ciclicamente nel mondo dello spettacolo io penso che hanno ebbe una grande ricaduta di depressione a causa di questo però quello che hanno capì solo dopo il come posso dire la macchina si era già messa in moto il successo si era già innescato perché spiace dare ragione a Oscar Wilde ma il famoso si parli o se ne spalli perché se ne parli tutti parlavano di Evangelion le riviste cominciarono a parlare di Evangelion e a quel punto la valanghera innescata la seconda messa in onda di Evangelion fu serale e in coda c'era già un approfondimento di filosofia dopo ogni episodio curato dal professor Morioka Masahiro che per poco caso poi ho conosciuto abbiamo mangiato insieme a Tokyo insegna all'università o a Seda se ben ricordo e quindi in qualche modo quello che hanno sognava di fare mentre lui probabilmente si stava deprimendo si era già innescato ed era si era messo in moto un volano che avrebbe reso Evangelion qualcosa di molto più grande di quello che i suoi autori avrebbero mai sognato e a questo punto la domanda però è lecita e tu hai detto ok Evangelion è diventato un qualcosa di più di ciò che forse sia Gainax che lo stesso idea di chi hanno pensava fosse e quindi uno che cosa è diventato Evangelion immediatamente in quegli anni in quegli anni e negli anni immediatamente successivi alla prima e alla seconda messa in onda e poi tenendo conto di tutto ciò che è stato qual è il lascito di Evangelion perché a distanza di così tanti anni ne continuiamo a parlare ancora o si continua a parlare ancora tanto che lo so che in queste serate noi non parleremo dei rebuild però tutto sommato se c'è stata ancora l'esigenza di fare una sorta di reboot evidentemente Evangelion nonostante tutto c'è è vivo e lotta insieme a noi quindi qual è il lascito fondamentalmente di questo di questo anime e perché è così importante se teniamo conto di tutto quello che è il panorama dell'animazione del Paese del Sollevante io lascerei la parola soprattutto a Domenico e prima di farlo posso rispondere a una cosa che ho letto in touch in chat sì se mi dici chi l'ho l'ho visto in line scusate in varie hanno chiesto ma come hai fatto a mangiare così tante persone dagli autori ma Gualtiero mangia sempre il 92 ah eccolo qua hai mangiato con tutta la Gainax non metti in dubbio la cosa ma in realtà no in realtà no per esempio hanno idea che non l'ho mai incontrato però ma lo sai perché non l'ha mai incontrato la risposta è qui Gualtiero e idea che hanno abbiamo la risposta definitiva a questo a questo quesito che ci lo sapevo lo sapevo in tanti anni di lavoro nel settore ci sono tante serate tanti eventi che capita abbastanza spesso di avere a che fare con autori sono questi quindi lascio a Domenico parlare di quelli che secondo lui sono i lasciti l'eredità di questa serie animata ma finirei per dire sostanzialmente quello che ha detto anche idea che hanno attualmente non c'è un anime più nuovo di Evangelion il lascito sostanzialmente di questa serie senza nemmeno bisogno di interpellare la saga dei Rebuild che poi altro non è che il modo di idea che hanno di riraccontarsi perché magari qualcosa gli era sfuggito magari qualcosa non era preciso chiaro in quello che ha fatto nella serie televisiva come abbiamo esplicato finora quindi un nuovo raccontare poteva essere utile e non soltanto per fa soldi come uno può pensare anche un'esigenza personale quella di Deakian come lo è stato la serie in generale io direi il lascito vero sta negli emuli nell'aver tentato di ricreare quel successo di Evangelion rubandone sostanzialmente l'estetica guardasi i vari cloni i Raxephon i vari Aquarion che cercano di unire il misticismo e il robotico in una miscela che sia intrigante qualcuno magari è riuscito anche a conquistarsi il cuore degli amanti della robotica però sostanzialmente cadevano tutti nel grande errore di voler copiare appunto la forma e non il contenuto perché Evangelion è impossibile da copiare ecco non a caso i Deakian per però adesso lo devo fare per rifare i rebuild ha dovuto copiare se stesso siamo partiti proprio da questo punto che lui da Otaku non poteva fare nulla di nuovo non poteva inventare nulla di nuovo doveva copiare dai suoi grandi maestri e poi alla fine si autocopia perché non c'è nulla di nuovo da copiare sostanzialmente poi deve riraccontarsi e deve raccontare magari un momento nuovo suo della sua vita della sua storia anche perché ecco il lascero di Evangelion secondo me è un la dico molto filosofica il testamento animato di un uomo il suo racconto lui ci ha voluto mettere tutto dentro quello che ci ha lasciato è sostanzialmente Evangelion punto ok io vorrei fare una domanda personale a Gualtiero se posso perché in questa ora e venti credo che abbiamo dato una panoramica concisa ma abbastanza puntuale di tutto quello che fondamentalmente ci interessava sapere questa sera ovvero come nasce Evangelion da dove nasce in che panorama artistico culturale storico esce fuori che problemi ha avuto chi è idea chi hanno però una piccola domanda personale a Gualtiero su Evangelion gliela voglio fare ovvero tenendo conto di tutto quello di cui abbiamo raccontato per te alla fine Evangelion che cos'è dal punto di vista personale che cosa ti ha lasciato che cosa rappresenta scusa ma così mi scambi la domanda che volevo fare la settimana prossima si fanno dei temi no perché me la stai rubando sono puto allora sei come idea chi hanno sei un ladro anche tu la settimana sono moladro vabbè la settimana prossima parleremo dei temi però da Gualtiero vuole capire che cos'è per lui Evangelion in linea generale ma guarda è strano perché io mi rendo conto almeno oggi mi sembra di rendermi conto che non so voi vorrei le vostre opinioni su questo che forse la prima ragione del grande successo di Evangelion è stato il fatto che Evangelion mettendo in scena tutti i turbamenti dell'animo del suo autore no perché il suo autore l'ha voluto fare per questo sapete che hanno i dati ha dichiarato esplicitamente Evangelion è uno show di masturbazione dove io mi masturbo e la gente mi guarda fa così con queste parole io mi metto sul palco a masturbarmi e la gente sotto il palco a guardare essenzialmente Evangelion questo lo capisco adesso questa è la mia idea di oggi è un tentativo di autoterapia che hanno idea chi ha fatto per autoanalizzarsi sapete come quando uno psichiatra ti invita a scrivere un diario può scrivere un libro non è una cosa particolarmente rara hanno idea che ha fatto Evangelion raccontando tutti i suoi turbamenti per questo dico tutti i personaggi di Evangelion sono hanno più tutti i suoi demoni fantasmi conflitti tutto ok nel fare questo hanno idea che una singola persona forse per sua sensibilità spesso accade agli artisti di essere un po' più avanti dell'evoluzione psicosociologica rispetto al pubblico generalista secondo me hanno idea chi ha interpretato delle tensioni che c'erano nello spirito del tempo di quel tempo un certo senso di vuoto un certo senso di non sapere dove si stanno dirigendo i fili della società un certo senso di immobilismo se parliamo del Giappone una certa voglia di apocalisse di cambiamento dell'ordine sociale prima Carmen citava essenzialmente l'attacco col gas sarin che la setta Oum Shinrikyo fece nel 95 se me ricordo ora queste cose per me erano assolutamente impercettibili quando guardai Evangelion perché io ero un ventenne italiano che ne volevo capire quindi io guardai Evangelion come avevo guardato Nadia con un semplicismo quasi infantile la differenza è che Nadia era un prodotto per la tv di stato giapponese diretto a un pubblico di bambini Evangelion no ma io non potevo cogliere queste cose che tra l'altro non entravano in risonanza con nessuna parte di me paradossalmente io credo ma questo sarà argomento del terzo incontro che quelle tensioni fossero già proprie di un pubblico più giovane di me nel senso tante persone che si sono appassionate di Evangelion nella loro adolescenza vedendolo su MTV in Italia erano secondo me persone di una generazione successiva alla mia che era già più affine a quelle inquietudini presenti in Evangelion che per me erano ah oddio come sono complessati i personaggi di Evangelion cioè per me non era lì ok va bene per il resto ce lo teniamo per la prossima volta anche perché torno a ribadire che quello di questa sera era solo il primo appuntamento di tre la prossima settimana domenica prossima saremo sul canale di domenico e affronteremo i temi le tematiche di Evangelion mentre fra due settimane saremo sul canale di Man Games quindi da Carmen per capire qual è stato il successo in Italia di Evangelion io direi che in quest'ora e venticinque abbiamo davvero espletato tutto ciò che ci dovevamo raccontare volevo un attimo ringraziare perché se no poi la gente mi picchia volevo un attimo ringraziare Occhio Cotto per essersi abbonato Lotus per Lobolo Ray Rifammi Tuo per i vari bit Daxter per l'abbonamento Nicolas che si è abbonato un bacione Areg 90 Sergente Babuino e Aki Wright per l'abbonamento se voi siete d'accordo giusto per arrivare un'ora e mezza piena io aprirei alle domande qualche domanda dalla chat anche perché abbiamo Gualtiero Carmene Domenico e quindi ne potete approfittare per domandare a queste splendide persone tutto quello che vi passa per la testa nel limite del particolare nel frattempo ti posso fare i complimenti veramente per la chat per i diciamo i tuoi follower sono divertentissimi un'ora e venticinque che rido fanno commenti stupendi anche domande interessanti veramente complimenti alla chat ragazzi diciamo che le domande interessanti sono i miei quelli che fanno ridere sono di Domenico grazie per averlo riconosciuto grazie quanto meno una cosa ragazzi scusami io faccio un complimento ai follower faccio un complimento alla chat e tu me la smonti così però dai no no si scherza si scherza in realtà ovviamente in realtà è tutto in uno siamo tutti contenti un bacione tra le chat unite e fuse in questo complimenti in questo simposio dedicato Evangelion comunque ok si vada maestro no c'è una cosa che volevo dire a tutti quelli che ci stanno guardando ve l'accedavo prima nel fuori onda abbiamo detto che Anno Hideaki aveva l'ambizione dagli anni 70 agli anni 90 stagnazione Anno Hideaki aveva l'ambizione di fare per il pubblico della gente come lui che era la gente cresciuta con Yamato e Gundam di fare una cosa che avesse una magnitudo un impatto pari a Yamato e Gundam ai loro tempi ce l'ha fatta perché dico ce l'ha fatta perché fin da quando Evangelion incominciò a uscire siccome era una serie molto chiacchierata anche qui in Italia il pubblico si era un po' diviso tra quello Evangelion è una mia vita e quello Evangelion è una schifezza e c'era un po' la tendenza a cercare di darsi un tono nell'uno o nell'altro modo però tutto questo è francamente insignificante perché mentre noi che eravamo alla periferia della periferia della periferia del mondo dell'animazione giapponese ci dilirtavamo in questo ai tempi c'erano le fanzine ovviamente era un mondo molto diverso da quello adesso con internet in Giappone dall'inizio del 96 quando finì la serie con la seconda messa in onda e poi con la produzione del finale cinematografico nel 97 si creò un tale riverbero di questa serie da non avere avuto né precedenti né avere avuto alcuna cosa di pari cioè imparagonabile cioè il numero di riviste di settore e soprattutto non di settore che dedicarono speciali a Evangelion in Giappone è qualcosa di semplicemente impensabile stiamo parlando di filosofi giapponesi sociologi giapponesi che scrivevano articoli su Evangelion su riviste di costume su riviste di cultura è come dire che se adesso io facessi non so un videogioco un videogioco italiano che diventa una cosa così grande che non so Galimberti deve fare un articolo su questo videogioco e poi adesso Umberto non c'è più ma per dire gli editorialisti del Corriere della Sera si mettono a parlare di questo videogioco che ho fatto io nella mia stantezza è evidente che è una cosa senza precedenti e questo è stato Evangelion cioè se in Giappone se Yamato creò l'anime Boom l'esplosione del settore anime con un articolo sulla rivista Out e poi con l'uscita di anime Animage Evangelion ha avuto una triplice intervista a Nohideaki sulla rivista Quick Japan una rivista di costume da cui poi sono venuti dei libri ha avuto gente come Miyadaishinji come Otsuka Iji c'è stato persino un autore intellettualissimo di libri Murakami Ryu non Murakami Haruki Murakami Ryu che ha scritto un articolo su Evangelion questa cosa è inusitata perché una cosa che io vorrei dire è che in Giappone soprattutto a quei tempi ma ancora oggi chi dice il contrario sta tirando acqua al suo mulino l'animazione è sempre stata vista come un sottoprodotto subculturale l'animazione in Giappone non è vista come cultura il manga ha malapena l'animazione no cioè in Giappone l'animazione è una cosa pensata o per bambini o per maniaci parliamoci chiaro nel 95 ancora più il 95 è un momento in cui hanno Hideaki quando va a nuoto non può dire il mestiere che fa perché si vergogna rei e gli anami l'acqua perché hanno Hideaki faceva nuoto in quel periodo e lui non può dire io sono il registrato animazione si vergogna cioè nel senso poi si fanno tante millanterie il Giappone è un posto in cui l'animazione ha il suo posto sono tutte bugie queste sono bugie fatte da chi non è mai andato in Giappone o se è già andato è andato a Kihabara che non è il Giappone è il quartiere dei malatoni è diverso è molto diverso quello che dici guarda ne abbiamo parlato mercoledì scorso ho raccontato della prima guerra dei manga dove nel 1959 Kodansha e Shogakkan cominciano a darsi letteralmente battaglia tra spie contro spionaggio editoriale eccetera perché fino a quegli anni tu hai parlato oggi degli anime ma i manga fondamentalmente erano ritenuti come un prodotto per gli idioti parole loro ma che dato che era diventato fondamentalmente il business del decennio non potevano far finta che non esistesse e quindi giocoforza dovevano anche loro fare il loro magazine settimanale così da riuscire a diventare prodotto di punta però fino a quegli anni e ancora per gli anni successivi in realtà loro consideravano i manga come un prodotto per gli idioti e quindi è tutto vero c'è un'intervista molto interessante a un autore tra i più colti tra i più intellettuali secondo me dell'animazione che è Tomino Yoshiyuki no? e Tomino Yoshiyuki dice che finché non ha letto Petsuanatom di Tezuka Osamu lui non è riuscito a credere che i manga potessero essere veicolo culturale queste sono cose interessanti senti qui ti fanno una domanda proprio per la serie affrontiamo l'elefante nella stanza magari affrontiamolo stasera e poi non ne parliamo più ti chiedono Gualtierone ma guarderai mai la rebuild di Evangelion? serve una sua live di commento? diciamo che il fatto che io non abbia avuto interesse per guardare la serie di film nota come Rebiot of Evangelion non è una cosa d'orgoglio una cosa una fissazione è solo che non ho avuto interesse di guardarla domani potrei avere interesse di guardarla oppure qualcuno potrebbe affidarmene un ridoppiaggio che lo sai allora sarei assolutamente obbligato a guardarla col massimo scrupolo per fare il migliore lavoro possibile chi lo sa nel senso tutto potrebbe accadere qua dicono che sarebbe bello conoscere il tuo parere quindi nel caso pensaci speriamo speriamo beh dai la butto là se Gualtierone guarda i rebuild di Evangelion lo spazio lui lo sa a disposizione anche perché di nuovo queste serate quando Gualtierone mi ha proposto quello che doveva essere in un dittico ma che si è trasformato in un trittico io ho detto guarda io non credo di essere la persona più adatta per parlare di Evangelion però con Gualtierone lo dico proprio spassionatamente si è creato comunque una sorta di feeling per cui Gualtierone qui a porte aperte nel senso che quando lui dice boh voglio venire a fare una passeggiata parlare un'ora e mezza due ore sei ore porte aperte non ci sono problemi anche perché poi la cosa divertente di Gualtierone è che quando ci racconta questi aspetti dell'animazione del paese del sollevante ci racconta sempre un sacco di cose che io chiaramente non conosco ma che magari solo pochi adepti della conoscenza suprema possono conoscere sul serio comunque chiedono una petizione per un adattamento completo del maestro Cannarsi sul Rebib ho letto una domanda molto interessante che aveva a che fare con la serie animata che Hanno Hideaki fece dopo Evangelion ovvero Kare Shikanojo no Jijou in situazione in lui e lei tratto dal manga bellissimo di Tsuda Masan Hanno Hideaki ha sempre avuto un interesse di Shoujo manga il che non si studisce intanto perché Hanno Hideaki è stato adesso utilizzo un termine cardinalizio è stato creato otaku da una ragazza sappiamo Ritsuko quella che ha dato nome al personaggio di Akagi e di Tsuko però la cosa non stupisce perché storicamente gli Shoujo manga persino gli Yaoi manga di un tempo un po' più antico avevano un interesse psicologico dei personaggi superiore agli Shounen manga dove l'aspetto del combattimento ovviamente era molto più spiccato si potrebbe dire che nello Shounen manga tradizionale c'è anche un certo semplicismo psicologico dei personaggi nel Shoujo manga c'è sempre stata una certa vertigine di elucubrazione mentale dei personaggi il che risponde probabilmente alle differenze degli autrici e del pubblico di riferimento tant'è che alcune delle interviste più importanti inerenti a Vanghelio non sono state pubblicate su una rivista Yahoi Dantan che si chiama Jun come Giugno in francese scritto Jun quindi hanno l'idea che erano appassionato di Carecano da prima di fare Vanghelio perché è un manga che leggeva se Peng Peng si chiama Peng al quadrato è perché il cane di Carecano si chiama Pero Pero scritto Pero al quadrato tra l'altro essenzialmente Pero Pero che è messo nella si è proprio Uruciban Yebicio ci sono tutte cose hanno sempre stato appassionato di un certo tipo di manga fatti da donne per donne per quel tipo di approfondimento psicologico di personaggi che ovviamente si ritrova in Evangelion perché hanno apportato questo in un anime che chiaramente non è ispirato a uno sojo però ha quell'interesse psicologico quasi un po' nevrotico potremmo dire no? non sorprende quindi che fosse un grande appassionato di quel manga che secondo me insisto è bellissimo che è Carecicano Giorno Zizio ok e ragazzi io direi di darci appuntamento a domenica prossima così da pensare ai temi di Evangelion e quindi di nuovo ci vedremo domenica a casa di Domenico e ringrazio di cuore Carmen e Domenico per la compagnia e ringrazio tutti gli stronzi che sono stati con noi stasera ma soprattutto ringrazio Gualtiero per la sua compagnia e per tutte le cose belle che ci ha raccontato quindi noi ci vediamo per Evangelion domenica prossima io vi ricordo che domani e dopodomani non sono in live tranne martedì dove alle ore 16 con Domenico che vedo ormai davvero più di mia moglie saremo in compagnia degli amici di Comic Con per una live sul canale di Napoli Comic Con ma qui noi ci rivediamo mercoledì alle ore 21 domani e dopodomani non ci sono quindi io vi do una buona nottata grazie Carmen grazie Domenico grazie a te grazie Qualtiero vi mandiamo grazie Federic Manga così facciamo partire un bel raidino e quando arrivate da Federic Manga chiedetegli che cosa ne pensa di Evangelion dato che siamo così così a caso randomicamente ragazzi buonanotte è stato un piacere alla prossima notte a tutti ciao ciao ciao